Gli eventuali reati sono comunque attenzionati in tempo reale perché poi il problema dei sistemi di videosorveglianza è che arrivano postumi rispetto a quello che accade. Sì, è questa la novità perché sono immagini che vanno immediatamente in diretta nelle centrali operative delle forze dell'ordine e quindi sia la parte interna delle immagini dell'azienda che quelle esterne a seconda del sistema che viene installato e questo consente un intervento tempestivo, un intervento sicuramente più efficace. Un filo diretto con le centrali operative delle forze dell'ordine, questo sarà possibile per tutti coloro che decideranno di collegare il loro sistema di videosorveglianza, ove già presente, ad un software proposto da Confesercenti in collaborazione con un'azienda privata. Un collegamento alla piattaforma e quindi al sistema, quindi non c'è da rifare impianti di allarme, non c'è da rifare niente, non c'è da aggiungere niente salvo di due piccoli apparecchi che uno è il pulsante antirapina che è naturalmente un pulsante particolare dotato di SIM per una questione di sicurezza e un altro che si chiama Securebox che è né più né meno che uno strumento che è necessario in quanto comunque viene richiesto per una questione di privacy e per una questione di criptatura delle immagini. Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che va a sopperire alle mancanze, più volte sottolineate da parte di tutti, del sistema pubblico di videosorveglianza. Non funziona, è un tema, la vera novità è che si va a implementare nel senso che per quanto possa essere diffuso quello pubblico, questo è sicuramente, essendo legato a singole attività, un'implementazione importante numerica anche, quindi non solo più efficiente ma anche più presente, più capillare. Una soluzione che potrebbe essere applicata anche al mondo delle aziende orafe, nata in seguito alla firma di un protocollo di sicurezza sottoscritto in prefettura mesi fa. Sono strumenti, sono sistemi che servono proprio per far sì che anche le risorse a disposizione, anche le risorse disponibili possano essere utilizzate al meglio. Qualcosa che secondo lei può essere applicato ad esempio anche nel settore orafo dove sappiamo benissimo gli assalti degli ultimi mesi? Sì, io l'ho detto anche in diverse circostanze, sono strumenti di difesa passiva che sono determinanti, quindi sono indispensabili, l'ho sempre sottoscritto, l'ho sempre rappresentato anche naturalmente alle aziende orafe e che per loro natura hanno bisogno di ulteriori sistemi di protezione anche rispetto ad un esercizio commerciale che non operi in quel settore.